Siamo qui, stiamo intervistando i medici che hanno frequentato questo corso e ne prendiamo uno a caso e gli facciamo delle domande. Dottore, mi scusi, posso rubarle un minuto? Volevo sapere come si era trovato al corso del Dottor Tirone, può dirci due parole? A me il corso del Dottor Tirone piace tantissimo, si dicono solo cose intelligenti ma soprattutto semplici, la gente capisce sempre tutto. Siamo felicissimi, un altro dei nostri medici che si è trovato benissimo al corso del Dottor Tirone, siamo felicissimi, ripeteremo presto l'esperienza. Grazie dottore, la aspettiamo al prossimo corso. Ci sarò di sicuro, grazie a voi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.